Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Parlo a passavoce perché c'è di là la mia mamma che praticamente non sa che le sto preparando una torta sorpresa. Lì assolutamente non deve saperlo, infatti ci sta con lì mio padre che la sta intrattenendo. Sta venendo un film e cercherò di non farmi scoprire. Questo video uscirà proprio domani e 17, oggi e 16, perché domani è il compleanno, però comunque la borsa la preparò oggi e poi ve la faccio vedere. Ecco, praticamente ho due tipi di crema, come potete vedere. Però il genio che è presente non sapeva che per preparare questo ci vuole la panna ma non il latte. Sono praticamente un genio, ve la potete vedere. E quindi mo che cosa faccio? Uso metà bustina, così meno panna, così almeno sopra ci metterò la panna. Se non, dalla fine non potevo farcire la torta. Vabbè, siccome non fa senso, però cercare di capire la situazione. Potrebbe entrare mia madre e non può finire la torta ora, perché deve essere una sorpresa. Quindi sono citato. E va bene, mettiamoci al lavoro. Vabbè. 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 Vabbè, così. Vabbè. 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 Ho finito tutte le creme. Questa è la seconda. Ci metto il bricotto spigliolato. ragazzi poco fa è appena entrata mia madre per fortuna che avevo già nascosto la crema infatti adesso inizio a preparare la torta vera e proprio però c'è che anzi non è semplice preparare una sorpresa per qualcuno se vivi con questa persona ragazzi il cuore tra poco viene infarto spero che uscirà bene la sorpresa me lo auguro praticamente adesso sto bagnando un pan di spagna come potete vedere magari forse faccio da un mannale ho messo la panna su allora ragazzi adesso posso parlare liberamente perché ho finito la torta ho fatto anche la sorpresa la mia mamma soltanto che questa parte non andrà nel video perché come avevo già accennato nei video precedenti miei non amano quando apparire nei miei video quindi no comunque adesso vi lascio la foto della torta finita